Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie, rivoli, narrativi. Lemiescorie.it è il mio blog dove un pochino di anni fa nasceva con l'intento di esprimere me stesso e quindi di buttare su un blog, su carta, su quello che era, i miei pensieri. Piano piano si è trasformato ed è diventato, sta diventando un blog per scrittori perché quello che voglio fare e vorrei fare da qualche anno a questa parte è lo scrittore. Cosa che già, come detto precedentemente in tutti i miei video, amavo fare già da bambino ma che ho riscoperto da qualche anno. Se vi interessa andate a vedere gli altri video in cui spiego realmente come è iniziato il tutto che dietro c'è una chiave un po' mistica, spirituale, che sono gli argomenti di cui mi piace anche parlare diciamo principalmente appunto la spiritualità, la mistica, quindi tutte le cose misteriose che sfociano poi anche nella parapsicologia, ma anche nella psicologia, anche nelle storie dell'horror diciamo ma soprattutto l'orrore che c'è nella mente e quindi nel cervello di ognuno di noi. Piano piano sto portando contenuti su questo canale, ringrazio chi è che si è iscritto e chi mi scrive anche dei commenti sotto ai video. Vi ringrazio per seguirmi, spero vi piacciano i miei contenuti e continuerò a farli. Oggi parliamo di uno scrittore che a me ha colpito moltissimo sin dal primo romanzo che ho letto e chi mi segue sul blog appunto ha visto che l'ultimo articolo di cui ho parlato era proprio di questo scrittore sto parlando di Ernest Hemingway. Allora il suo primo romanzo, quello che ho letto, è stato quello del mare, il vecchio e il mare il vecchio e il mare, stavo pensando altre cose, il vecchio e il mare che mi ha subito colpito mi ha subito colpito ovviamente, vabbè, ho sentito sempre parlare di Hemingway ma non avevo mai mai assolutamente letto nessun romanzo ho sempre sentito parlare del mito Hemingway, quindi diciamo a grandi linee lo scrittore Hemingway e appena letto il primo romanzo, quindi il vecchio e il mare, sono rimasto colpito colpito assolutamente dal modo di scrivere di Hemingway asciutto, pulito con dialoghi sempre diciamo azzeccati, per lo più obliqui cioè non che rispondono a domande, risposte dirette diciamo, quelli che vengono stati solitamente, quindi dialoghi con domande e risposte ma proprio dialoghi ficcanti, obliqui, nel senso che non rispondono direttamente a ciò che viene detto in precedenza e mi è piaciuta l'asciuttezza, ripeto e le tematiche che porta, le tematiche che fondamentalmente diciamo è una sola che ho anche approfondito nell'articolo che ho scritto che vi invito a leggere ovviamente vi invito anche a mettere mi piace sul video che state vedendo e iscrivervi al canale di modo che riuscirete a vedere altri contenuti così piano piano saliremo di numero sto scrivendo un romanzo, ho quasi ultimato la terza stesura quindi quasi finito per poi passarlo al mio correttore di bozze nonché editor e vediamo che esce fuori e Hemingway è anche uno dei personaggi che ho inserito all'interno di questo romanzo vabbè, non vi spoilerò nulla poi quando sarà il momento, arriverà insomma il momento e dicevo il tema principale di Hemingway secondo il mio modestissimo parere è la morte la morte diciamo che tutti i romanzi di Hemingway sono impregnati da questa morte e sono andato a studiare a fondo il perché lui diciamo ami particolarmente questo è affascinato da questo mondo dal mondo della morte e leggendo la sua biografia diciamo ho scoperto molte curiosità molte cose particolari di cui non ero appunto conoscenza ma che hanno diciamo approfondito appunto cioè non la figura piatta non la figura piatta di Hemingway ma tridimensionale come poi dovrebbero essere i personaggi di ogni romanzo quindi anche la sua vita era molto tridimensionale aveva molti conflitti nella propria esistenza partendo appunto dalla sua già nascita e quindi diciamo nel conflitto familiare lui, la mamma ha occupato un posto molto molto particolare la madre aveva un carattere molto duro arcigno che diciamo ha messo sempre alla prova sia Hemingway ma lo stesso papà di Hemingway Clarence Hemingway che anche lui come il figlio si è ucciso si è ucciso con un colpo di pistola quindi spoilerone per chi non lo sapesse Hemingway si è ucciso e una cosa un'altra tematica che mi interessa molto è sempre il suicidio il suicidio è una tematica che nella psicologia mi ha sempre ovviamente terrorizzato ma affascinato allo stesso tempo quindi capire le motivazioni del perché una persona si debba togliere la vita e quindi andare a scavare a fondo di quella persona e della psicologia di quella persona per capire il perché del gesto che ovviamente a meno che non hai patologie malattie mentali gravi ovviamente nascono sempre da da ciò che hai vissuto e quindi andare a scoprire il perché che cos'è che hai vissuto e che cos'è che ti ha dato quel colpo di grazia tra virgolette per poterti togliere la vita dicevamo la madre la madre era appunto molto molto tosta si narra che addirittura dopo la morte del padre per un colpo di pistola appunto dopo che già Hemingway se n'era andato da casa ed era andato a Parigi per diciamo appunto intraprendere la sua carriera da scrittore ancora meglio rispetto a quello che stava già facendo si narra che la madre per regalo gli fece recapitare la pistola con cui si sparò il padre appunto pistola che precedentemente era anche cioè era la pistola del nonno di Hemingway una Smith & Wesson quindi un bel pistolone gigante si narra appunto che la madre abbia regalato per il compleanno di Hemingway questa pistola quindi a voi diciamo la la motivazione è comunque la cioè il capire già che tipo di rapporto ci potesse essere con la madre questo ovviamente questo episodio non è che trova riscontro lo trova riscontro in un libro scritto dal dal nipote dal nipote di Hemingway quindi non sappiamo se realmente è successa una cosa del genere però insomma se dovesse essere successa già questa cosa risponderebbe al al conflitto che c'era tra i genitori questo fatti specie con la madre tra appunto la madre di Hemingway e lei e diciamo appunto i conflitti che che invadevano la vita di Hemingway erano molteplici appena nato proprio appena nato la madre che desiderava desiderava avere due figlie femmine dopo la nascita della prima sorella più grande di Hemingway e si ritrovò appunto con il piccolo Ernest decise deliberatamente di vestirlo da femminuccia sin da piccolo e fargli crescere i capelli fino ai sei anni cosa che adesso ovviamente in questo periodo storico non ci sarebbero non ci sarebbero problemi nel fatto di vedere magari maschi con colori diversi da quello che usiamo in questo caso come l'azzurro cosa che poi storicamente è anche errata il fatto dell'azzurro e del rosa quindi vabbè qui entriamo in un altro mondo però diciamo ecco all'epoca vedere ci sono anche delle foto vedere il piccolo Hemingway piccolino vestito con un vestito da sbuffo bianco ovviamente da femminuccia sicuramente è stato per lui all'inizio fino ai sei anni probabilmente ha creato dei problemi forse non psicologici però ha creato delle difficoltà in un bambino che magari non sapeva a che genere appartenere cosa che più avanti anche nel diario dell'ultima moglie di Hemingway lei narra come diciamo i due avevano molte deviazioni sotto a livello sessuale per cui a Hemingway piaceva molto spesso fare cambi di genere proprio vestirsi da femmina o cose così insomma dal lato sessuale quindi Hemingway ha sempre avuto questa sorta di alone maschilista da macio da persona arrogante potente ma sicuramente nascondeva una sensibilità e un modo di esprimersi che magari ha dovuto nascondere voleva nascondere non so per quale motivo ma che magari se avesse trovato sfogo non lo avrebbe portato poi ad avere problemi che che l'hanno portato ad uccidersi diciamo che questa sua figura da macio lui la doveva sempre comunque portare avanti tant'è che il padre per dire gli insegnò la caccia la pesca a lui piacevano molto le corride quindi andava tutto ciò che appunto che appunto sfioravano la morte lui ci si tuffava ci si tuffava a capofitto quindi le corride incontri di pugilato tant'è che lui per un pugno per un pugno ad un occhio rimase con la vista con la vista che praticamente quando fece la la visita di leva per andare come militare non venne preso venne scartato proprio perché aveva questo problema aveva questo problema alla vista cosa che a sua volta sempre un problema alla vista fece sì che la madre di Hemingway non poté diciamo diventare una cantante professionista di lirica perché a lei piaceva molto cantare lirica e non poté diventare una professionista di lirica poiché le luci del palco le davano fastidio perché aveva questi abbassamenti di vista aveva questi problemi lo stesso problema appunto dopo aver preso un pugno questo abbassamento di vista recò problemi ad Hemingway che non poté essere preso come militare ma servì il suo paese andando con la croce rossa e si ritrovò a dover dare vettovagli e cibo ai soldati che stavano nelle trincee qui in Italia famosissima la storia per cui Hemingway mentre stava proprio portando cibo e vettovagli ai soldati praticamente con un colpo di mortaglio di mortaglio sì con un colpo di mortaglio venne ferito ad una gamba l'episodio narrato narra anche di un suo gesto eroico dove praticamente raccolse un ferito e lo portò in spalla fino a un punto diciamo più sicuro e mentre faceva questo venne colpito da altri punti da altri insomma dalla mitragliatrice o giù di lì e questo poi lo portò più avanti a ricevere anche la medaglia d'argento mi sembra la medaglia d'argento insomma per il coraggio avuto questo è un punto nodale nella storia diciamo di Hemingway una sorta di di turning point se vogliamo parlare diciamo a livello narrativo quindi un punto di svolta nella sua nella sua vita perché lo portò da giovane ragazzo che voleva intraprendere la carriera di scrittore ad avere i primi spunti proprio per scrivere uno dei suoi capolavori che era Addio alle armi infatti in questo nella sua degenza incontrò un'infermiera Agnes o Agnes von der Kurift vabbè non me lo ricordo bene da dove praticamente lui prese il personaggio principale per scrivere appunto il personaggio di l'infermiera non mi ricordo come si chiama di Addio alle armi comunque l'infermiera principale che affianca la che affianca il protagonista di Addio alle armi appunto quindi tutta questa questa faccenda che gli successe oltre a sbalanzarlo negli onori della cronaca ovviamente gli fecero cioè gli servirono da spunto da spunto scrivere il suo capolavoro Addio alle armi quando si scrive quando si dice scrivi di ciò che sai fondamentalmente lui faceva questo lui scriveva di ciò che sapeva quindi tutto tutto il romanzo il romanzo che narra questa storia in realtà è proprio vissuta vissuta in prima persona da da Hemingway e nel romanzo questa cosa si sente insomma anche se poi dopo l'epilogo finale prende tutta un'altra piega non c'entra nulla poi con la storia effettiva di lui che venne anche rifiutato da quest'infermiera c'è un diario c'è un diario segreto di quest'infermiera che dovrò leggere in cui si narrano tutte le avventure di quest'infermiera e narra anche gli episodi e il periodo in cui Hemingway stava lì stava lì con lei diciamo Addio alle armi prende lo spunto iniziale per poi andare da tutt'altra direzione e anche quello anche quello è un un romanzo impregnato impregnato dalla morte quindi diciamo che tutta la vita di Hemingway è costellata sempre da un portarsi al limite quindi andare sempre al limite di qualcosa e sfiorarlo sfiorarlo quindi affascinato un po' come ci affascinano i film dell'orrore quindi i film dell'orrore noi affascinano perché c'è sempre quella sorta di suspense di c'è sempre quella morte sottintesa che poi alla fine magari sfocia in qualcosa e quindi quell'orrore che ci disgusta ma allo stesso tempo ci affascina stessa cosa penso sia stata per lui il fatto di essere affascinato da questa cosa che è la morte cosa che lui in una lettera scritta proprio quando ebbe questo incidente alla famiglia che la morte è una delle cose più semplici è una delle cose più semplici su cui chiedere insomma la cosa più semplice su cui uno può imbattersi poiché siamo talmente fragili che veramente può succedere in un momento o nell'altro e quasi a già pensare a quello che sarebbe successo anni dopo molti molti anni dopo in questa lettera dice proprio che è quanto sarebbe bello morire nell'apice della gioventù della giovinezza e non consunto dalla vecchiaia cosa che poi lui si ritrovò a fare si ritrovò a fare perché perché si uccise Hemingway sicuramente sicuramente l'impronta diciamo familiare quindi la durezza con cui lui ha dovuto con cui lui ha dovuto combattere e la la non accettazione perché fondamentalmente lui non era accettato tantissimo dalla famiglia o meglio tu dici cacchiarola uno come Hemingway che scrive quello che scrive eppure la famiglia non lo accetta il primo romanzo che lui scrisse o il primo racconto non ricordo bene se fu fiesta si fu fiesta il sole sorgerà ancora nelle edizioni italiane era il sole sorgerà ancora poi divenne fiesta lui raccontava la storia di questa di questo di questo uomo che diciamo si trova a che fare con una donna con un amore impossibile poiché lui l'uomo impotente non può diciamo oltre che platonicamente amare questa donna e questa donna è una donna diciamo che si sa divertire e quindi va con molti uomini e lui si ritrova sempre nella figura di accompagnatore di questa donna cercando di non farla mettere nei guai e si trova sempre però poi a combattere tra virgolette con questi uomini che la vogliono tutti in poche parole lui l'unico che la ama veramente non può diciamo soddisfarla si trova in questa situazione e narra la vicissitudine di questi uomini e con questa donna che viaggiano e vanno verso la Spagna e vanno in Francia e quindi c'è tutta questa storia che praticamente ruota intorno al fatto sempre della morte sempre quella è sempre quella perché comunque si vedono si vedono anche le corride quindi i tori cosa che lui amava molto amava molto andare alle corride e e quindi lui parlava di ciò che sapeva lui parlava di ciò che sapeva quindi tutti i suoi romanzi sono impregnati sempre da questo filo conduttore cioè le sue esperienze tutto quello che lui viveva lui le buttava su carta e poi ovviamente le romanzava e gli dava quel tocco di classe che solo lui sapeva dare ovviamente nell'arricchire quella storia e riuscire a far cogliere da quei personaggi veramente quel tormento quei problemi che senza senza tanto descrivere lui bravissimo con i dialoghi a farti capire la situazione il contesto senza dover tanto descrivere il luogo il luogo dove si 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 svolge la scena lui riesce con i dialoghi dando ti quei due tre spunti del luogo solo con i dialoghi riesce a farti capire tutto e questo è veramente una una maestria una cosa che che solo lui probabilmente sa fare sì anche tanti altri scrittori ma lui in particolar modo riesce proprio ad avere questi questi dialoghi taglienti che sono sono veramente eccezionali e quindi dicevamo appunto Hemingway che scriveva scriveva ho divagato un pochino però dicevamo i suoi genitori lui scrisse fiesta e i genitori ricevuti la prima le copie diciamo che ovviamente uno da così anche ai familiari le ricevette tutte indietro perché il padre molto cattolico la madre anche non accettavano che il figlio scrivesse di quelle tematiche di quelle cose per cui quasi ripudiarono il lavoro di Hemingway quindi considerate che un essere umano che vuole scrivere vuole fare della scrittura la propria esistenza la propria vita quindi scrivere delle tematiche si ritrovò ad essere ripudiato quello che lui amava fare dai genitori quindi già questo era un punto molto forte la madre dopo che il papà il papà si uccise lo fece sentire molto in colpa lo fece sentire molto in colpa o comunque lui Ernest si sentì molto in colpa poiché diciamo le colpe di questa morte gli caddero addosso proprio pesantemente e se le portò avanti per molto tempo non si spiegava il perché il padre si fosse ucciso era una cosa che lui non capì mai non capì mai tant'è che poi alla fine fece la stessa identica cosa è che è un filo conduttore proprio di quasi tutti gli Hemingway perché oltre a lui anche il fratello di Ernest due fratelli due fratelli si uccisero anche se un altro Gregory che diventò più avanti diventò più avanti transessuale diciamo che lui fu trovato morto dentro la cella si pensa si sia ucciso insomma non ci sono prove evidenti però si pensa si sia ucciso quindi il padre Ernest due fratelli la sorella la sorella e anche un amante un amante che si impiccò molto più avanti un amante di Hemingway che si impiccò un altro punto fondamentale di Hemingway è quello di essere donnaiolo quindi diciamo i punti trainanti di Hemingway sono sempre stati il fatto di essere un macio che abbiamo scoperto poi in realtà probabilmente lui nascondeva comunque questa sensibilità dietro a questa questa maschera che metteva che indossava tant'è che non riusciva poi a portarla fino in fondo essere donnaiolo un altro punto principale per cui è conosciuto Hemingway essere donnaiolo diciamo che appunto sposò quattro o cinque donne con cui fece tre quattro o cinque figli non riusciva a tenersi non riusciva a tenersi nei rapporti diciamo interpersonali tra tra uomo e donna non riusciva veniva affascinato sempre da da un'altra donna quindi lui diciamo ha passato molte fasi della sua vita in cui sempre accompagnato e sempre affiancato da queste donne con cui faceva anche figli e ci si sposava poi trovava sempre il modo di scappare dai suoi doveri e di trovare sempre un'altra donna con cui ricreare sempre lo stesso meccanismo quindi anche quello era un meccanismo perverso che magari rispecchiava una voglia verso la madre materna forse qualcosa per cui lui ricercava sempre una figura femminile che poi dopo alla fine non non aveva insomma l'ultima moglie che era quella diciamo con cui condivise la sua parte la sua ultima parte di vita forse era la più simile alla madre poiché era molto dura era molto tosta e andava insieme a lui ai safari di caccia una donna abbastanza insomma bella gaiarda e tosta forse rispecchiava lei l'ultima donna proprio che quasi uguale alla madre le altre erano sempre più più deboli forse o più più femminili secondo il suo punto di vista l'altra l'altra cosa che distingueva sempre Hemingway era era il bere famosissimo per essere un bevitore un ubriacone come se fosse diciamo quello più lo scrittore l'unico scrittore che beveva il mondo insomma diciamo c'è c'è un po' no un falso mito no sì lui sicuramente occupava anche la sua vita ma più che altro forse la sua parte la sua ultima parte di vita anche da giovane sicuramente però il fatto di bere era sempre questo un qualcosa da cui lui scappava da qualcosa è evidente che il fatto di ubriacarsi lo portava ad allontanarsi da magari dai problemi che lui non voleva affrontare lui dopo la morte del padre si sobbarcò della famiglia anche se aveva molti molti sensi di colpa si sobbarcò della madre si sobbarcò diciamo di tutto di tutta la famiglia e quindi i primi proventi con cui lui diciamo venne riconosciuto dai suoi primi romanzi li usò tutti esclusivamente per per diciamo mettere a proprio agio la famiglia e quindi pensò assolutamente alla madre alle sorelle ai fratelli e la cosa che poi lo distingueva nell'ultima parte della sua vita era anche diciamo questo rapporto strano con l'America l'America che da una parte lo idolatrava e lo lo voleva insomma appunto disegnare come un super macio e quindi come lo scrittore il miglior scrittore del mondo anche anche per uno scrittore diciamo avere la la possibilità di essere riconosciuto dalla propria generazione penso sia una c'è una soddisfazione e non so quanto lui aveva questa aveva il polso di questa situazione poiché molte interviste molte interviste lui comunque spiega che ci sono molti detrattori della sua scrittura e di quello che lui scriveva e proprio dagli Stati Uniti a un certo punto venne fuori la storia che lui era un comunista era amico dei comunisti perché si era trasferito a Cuba e quindi secondo questa visione lui era una spia e venne praticamente anche pedinato cosa che lui nell'ultima parte della vita sembrava un pazzo poiché diceva che che si sentiva abbraccato si sentiva quindi aveva delle manie di persecuzione cosa che più avanti invece si capì che erano vere perché vennero trovati dei fascicoli dell'FBI che praticamente era stato messo sotto osservazione e quindi veniva veramente seguito dall'FBI non era una sua immaginazione siccome questo avvenne nell'ultima parte della vita in cui praticamente cominciò a invecchiare ovviamente ma aveva problemi psicologici forti e venne ricoverato in una clinica sotto falso nome per non destare sospetti ovviamente per non destare scalpore e siccome all'epoca veniva fatto uso dell'elettroshock gli vennero applicati la prima volta mi sembra 15 elettroshock per cercare di curarlo da questa sorta di mania di persecuzione che aveva o comunque problemi grossi e prima di quest'episodio lui arrivò praticamente a fare un viaggio in un ultimo safari che aveva organizzato quindi la morte sempre come protagonista la morte vista dal lato del cacciatore che uccide che uccide l'animale era affascinato lui era affascinato dall'uccidere queste bestie queste bestie enormi e poi poterle avere comunque con loro cosa che il padre di Hemingway dicevamo il padre di Hemingway gli aveva gli aveva trasmesso questa questa passione per la per la caccia e quindi lui si ritrovò ad amarla ad amarla forse era un modo per appunto ricordare il padre questa cosa che si portò avanti per tutta la vita e proprio in un ultimo viaggio e nell'ultimo safari con l'ultima moglie Mary Welsh di cui abbiamo parlato prima successe un incidente un grosso incidente con con l'aereo mentre il pilota li stava portando insomma nel luogo dove 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 dovevano cacciare si impigliò in uno dei fili del del telefono mentre scappava da uno stormo di Ibis così narra la sua biografia e praticamente caddero e l'aereo prese fuoco la moglie e il pilota riuscirono ad uscire dal finestrino lui essendo troppo grosso non riusciva ad uscire prese a testate lo sportello dell'aereo e riuscì ad uscire praticamente mentre ritornavano si andarono su una collinetta per non farsi prendere dagli elefanti perché c'era un branco di elefanti lì nei dintorni e successe che riuscirono a trovare un'imbarcazione dove c'era un altro pilota di aerei che gli disse riconoscendolo cercò di convincerli a prendere un volo a prendere un aereo che stava lì e che li avrebbe portati subito diciamo a medicarsi ma anche quest'aereo praticamente tipo Final Destination ebbe un incidente prese fuoco mentre stava decollando era una catapecchia infatti lui dice che sembrava già una catapecchia st'aereo e nemmeno partì infatti prese fuoco e stessa cosa praticamente si riuscirono a salvare per il rotto della cuffia e a Hemingway presero fuoco i capelli quindi dopo il primo incidente anche il secondo riuscirono a essere portati in salvo da una volante di un poliziotto insomma che gli fece fare tutto un viaggio in macchina per tantissimi chilometri arrivarono praticamente all'ospedale gli venne diagnosticato di tutto aveva una spalla lussata una commozione cerebrale reni insomma veramente un disastro lì lui non si riprese più diciamo che quell'incidente quindi quasi a chiudere un cerchio quasi da giovane un incidente che lo lo prese con appunto una granata mitragliatrice e venne medicato e si salvò e arrivato all'apice della sua della sua carriera quindi della sua vita si trovò ad affrontare un altro incidente mortale che però non morì ma lo praticamente lo lo fece morire dentro psicologicamente quindi diciamo che lui è sempre stato a contatto con la morte ha sempre avuto questo contatto molto stretto sempre sul filo del rasoio qualsiasi cosa lui faceva era comunque aveva sempre questi tipi di incidenti o problemi ce ne stanno tantissimi di incidenti che gli sono capitati e uno addirittura da piccolo appena nato diciamo aveva 5-6 anni mentre andava a prendere un secchio del latte in una fattoria lì vicino gli si conficcò un bastoncino qui nella gola tant'è che gli dovessero togliere anche le tonzille quindi diciamo che la vita di Hemingway è sempre stata sul filo del rasoio ed è fascinante vedere come uno scrittore poi nei suoi nei suoi romanzi nei suoi racconti in realtà abbia sempre delineato questa sorta di punto che che includeva sempre la morte e quindi sempre sempre questa cosa che da un lato lo affascinava ma che da un lato lo voleva prendere insomma lo viveva in prima persona dopo questo incidente dicevamo prima appunto non si riprese più tant'è che lui prima di essere messo nella clinica dove gli fecero questi elettroshock aveva impugnato per ben due volte un'arma contro di sé una in cui era scarica una in cui era riuscito diciamo a mettere una cartuccia all'interno del fucile quindi dopo essere stato essere stato portato a questa clinica dopo essere stati somministrati questi elettroshock lui veramente non si riprese non si riprese tant'è che lui stava scrivendo un ultimo romanzo comunque aveva delle idee e quelle idee poi presero corpo nell'ultimo romanzo che era Festa Mobile mi sembra un romanzo in cui lui racconta probabilmente tutto il rapporto che aveva avuto con la scrittura e con tutti i suoi scrittori o tutti gli amici che si era fatto nel tempo e lo devo leggere questo non l'ho ancora letto e praticamente il il 30 giugno data a me molto 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 diciamo importante perché sono nato il 30 giugno mentre io nascevo tantissimi anni dopo lui entrava nella clinica per la seconda volta dove praticamente gli vennero somministrati altri elettroshock quindi già al limite della sopportazione lui già dopo il primo ricovero tornava a casa e non riusciva più a scrivere non riusciva più a scrivere stava davanti il foglio bianco e non riusciva diceva che non riusciva più a scrivere quindi probabilmente ciò che lo portò poi al gesto finale fu questo cioè il non avere nemmeno più la possibilità di fare ciò che amava quindi scrivere tant'è che la seconda volta che venne diciamo messo in clinica venne rinchiuso in una stanza senza né macchina da scrivere senza né il telefono quindi lui si ritrovò questi giorni lì buttato dentro questa stanza quindi non oso immaginare che cosa avesse provato senza nemmeno la possibilità di poter mettere vomitare su carta magari quello che sentiva e quindi fare quello per cui era nato scrivere uscì sembrò alla moglie a Mary Welsh l'ultima moglie che qualcosa fosse diciamo migliorato perché lo sentiva fischiettare lo sentiva cantare ma quello era solo l'inizio della fine poiché pochi giorni dopo infatti anche se la moglie aveva nascosto le cartucce poi nella nella storia nel nel libro che scrisse il nipote di Hemingway lascia un po' intendere come se la moglie avesse quasi lasciato apposta le chiavi della vetrina in cui erano messe diciamo le armi il fucile e le cartucce come se la moglie avesse lasciate lì quasi volendo lasciarle lì però queste poi sono cose che appunto non si sanno non si conoscono la cosa certa è che Hemingway preso questo fucile caricò e si sparò in testa proprio come aveva fatto il padre quindi anche qui a chiudere un cerchio sul modo di morire e e sul fatto di suicidarsi suicidarsi probabilmente ormai era arrivato allo stremo non riusciva più a connettere la mente dopo 25 elettroshock 25-30 elettroshock probabilmente non rispondeva più ai suoi stimoli aveva non so forse anche visioni non lo so non posso immaginare cosa aveva però insomma l'ha portato ad uccidersi il tema del suicidio è un tema che ripeto mi affascina molto porterò sul canale anche altre altre storie di altri scrittori che hanno fatto diciamo l'estremo gesto sul mio canale c'è anche parlo di molto tempo prima di riniziare un po' tutto sulla scrittura dei Linkin Park e parlo di Chester Bennington il cantante dei Linkin Park che anche lui si è tolto la vita e quindi questo è un tema un tema che mi diciamo mi affascina cosa che ovviamente si trova anche nel mio romanzo quindi sempre il tema principale sulla morte e diciamo questo è uno degli argomenti che mi piacerà affrontare e portare anche sul canale quindi ho finito sul mio blog trovate ovviamente anche l'articolo scritto quindi andatelo a leggere dove ho scritto anche in modo più dettagliato alcune curiosità quindi andatevelo a rileggere se l'avete letto no ovviamente seguite anche gli altri gli altri articoli che ho scritto gli altri video vi ringrazio per avermi seguito sicuramente questo è venuto un po' più lunghetto del solito però insomma mi premeva parlare di questo autore che a me piace piace veramente tanto e soprattutto di questa di questa parte psicologica magari piccole curiosità aneddoti che ho snocciolato durante il video che magari vi possono interessare e che potete approfondire anche voi anzi se conoscete molti curiosità o conoscete anche altre cose o se ho detto delle inesattezze che magari sono da correggere vi invito a commentarlo qui sotto di modo che ci sia anche uno scambio insomma tra quello che cerco di portare e quello che che voi insomma fruite va bene vi ringrazio ciao alla prossima